Bentornati al turno 6 del torneo dei candidati, vi ricordo che sul mio canale è presente una playlist contenente gli analisi delle partite che sono state disputate anche nei turni precedenti e come sempre in questo video andremo ad analizzare tutte e quattro le partite che sono state giocate. Forse sono uno dei pochi in Italia a portare questo format o addirittura l'unico non ne sono sicuro però ok questo poco importa iniziamo subito ad analizzare la partita tra Vidit e Firuja, Firuja che sta avendo un evento piuttosto difficile ma prima di iniziare ci tenevo a ringraziare Andrea uno degli iscritti che ieri mi ha fatto una donazione ed è sempre un modo bellissimo per supportare il mio lavoro e io ve ne sono sempre un sacco grato siete troppo generosi a me basterebbe un like per cercare di diffondere il più possibile questo video e aiutarmi a crescere come canale. Detto ciò Vidit gioca a pedone 4 Firuja che vuole tornare a vincere gioca c5 quindi la siciliana vuole sbilanciare il gioco pedone di 6 abbiamo una siciliana aperta il cavallo attacca il pedone e il bianco gioca a cavallo c3 per difendere appunto quel pedone ora il nero potrebbe costruire una Neidorf giocando pedone a 6 oppure un dragone con pedone g6 ma qua Firuja opta per cavallo c6 la siciliana classica Vidit sviluppa l'alfiere in c4 la seconda mossa più giocata alla prima sarebbe alfiere g5 però alfiere c4 comunque molto giocate ora Firuja gioca a donna b6 un approccio molto aggressivo per cercare appunto di tornare in torneo con una vittoria adesso il cavallo in d4 è sotto attacco e non è nell'interesse del bianco andare a scambiare questo cavallo perché dopo b per c6 il nero otterrebbe un centro pedonale più forte e la torre potrebbe andare in b8 sfruttando la colonna b che si sarebbe andata ad aprire quindi Vidit gioca a cavallo b3 evita il cambio di pezzi e in futuro eventualmente un alfiere potrà andare in e3 per cercare di infastidire la donna in c7 dopo pedone e6 però visto che Firuja ha indebolito il punto in d6 Vidit sviluppa l'alfiere in f4 per andare ad attaccarlo con alfiere e regina qui la mossa più giocata è cavallo e5 ma Firuja gioca con donna d8 torna indietro con la regina giusto un piccolo appunto a livello strategico e5 non era una grande mossa perché ora la casella in d5 è indebolita non c'è più nessun pedone del nero che può controllare questa casella l'alfiere potrebbe semplicemente spostarsi in g5 così facendo è già pronta ad eliminare il cavallo in f6 che è uno dei principali difensori di questa casella a quel punto il bianco potrà sfruttare la casella in d5 magari saltando con un cavallo quindi donna d8 infrangendo un po' i principi delle aperture cioè il nero ha perso due mosse per riposizionare la donna di nuovo nella casella in d8 e Vidit si comporta normalmente gioca donna d2 sta preparando arrocco lungo adesso il bianco riuscirà a raddoppiare i suoi pezzi pesanti sulla colonna d e ci sarà una fortissima pressione su quel pedone Firuja continua con pedone a6 la sua idea è spingere il pedone in b5 per poi avanzare in b4 scacciare il cavallo in c3 per poi catturare il pedone in e4 quindi Vidit per prevenire tutto ciò gioca con pedone a3 quindi controlla la casella in b4 in modo tale che quando il pedone avanza in b5 come del resto è successo in partita l'alfiere può tornare indietro e adesso il pedone in a3 è molto utile a controllare la casella in b4 di conseguenza il nero non potrà spingere questo pedone attaccando il cavallo per poi quindi far cadere il pedone in e4 tra questo punto Firuja sbaglia gioca alfiere b7 questo era l'ultimo momento in cui il nero poteva giocare con cavallo e5 per cercare di tamponare l'attacco di questo alfiere sul pedone in d6 perché dopo alfiere b7 Vidit arroccando lungo raddoppi i suoi pezzi sulla colonna d il pedone in d6 è sotto attacco da ben tre pezzi del bianco ed è molto difficile da difendere qui pedone e5 come prima sarebbe un errore strategico perché a quel punto la casella in d5 risulterebbe indebolita alfiere g5 andrebbe ad eliminare il difensore in f6 e il problema del nero è che qua cavallo e5 non funziona più seguirebbe il sacrificio devastante in b5 del cavallo bianco e questo cavallo non può essere catturato perché seguirebbe alfiere per e5 eliminazione del cavallo poi alfiere per b5 scacco il re deve salire in e7 ma dopo donna b4 scacco il re non ha più nessuna casella il nero deve per forza interpore la regina ma dopo donna per d6 avremmo scacco matto da parte del bianco quindi il cavallo non può essere catturato il nero potrebbe tentare di catturare in e4 contraattaccando la regina in d2 ma ora la regina sale in d4 sta arrivando cavallo per d6 scacco avrei ancora una volta tre attaccanti sta arrivando alfiere per e5 e ancora una volta il nero non può catturare questo cavallo perché dopo alfiere per e5 d per e5 seguirebbe alfiere per b5 scacco re e7 mossa unica e ora il bianco può vincere con molte mosse donna per e5 una di queste attaccando la regina portando l'altra torre in gioco e continuando l'attacco ma anche donna d7 scacco è molto diretta torre per d7 ora attacco il re attacco l'alfiere se il re va in e8 dopo torre per d7 abbiamo anche uno scacco di scoperta quindi il re deve salire in f6 ma dopo torre per b7 il bianco ha un pedone in più in particolare ha tre pedoni passati questo re è un po' esposto e la torre del bianco è completamente attiva su questa traversa di conseguenza il nero non può più giocare questa mossa e firugia però si ritrova senza poter difendere questo pedone in d6 gioca quindi donna b6 l'idea del nero è reagire ad alfiere per d6 con arrocco lungo la torre del nero entra in gioco sulla colonna d inchiodando l'alfiere in d6 e a quel punto il bianco potrebbe addirittura essere nei guai quindi qua vidit va a giocare con pedone g4 la sua idea è attaccare il cavallino f6 spedirlo indietro in d7 a quel punto la colonna d risulterebbe tappata e l'alfiere del bianco potrebbe andare a catturare il pedone in d6 firugia che infatti si ritrova già in una posizione piuttosto compromessa ha infranto infatti un sacco dei principi delle aperture ha portato la donna in b6 poi è tornato indietro poi è tornato di nuovo in b6 ha perso troppi tempi con questa regina ora cerca di complicare il gioco accetta la sfida e va a catturare il pedone in f2 è vero firugia ha guadagnato un pedone però allo stesso tempo queste mosse gli stanno costando un sacco di tempi spesso la torre del bianco potrà entrare in f1 guadagnando un altro tempo sulla regina e sviluppandosi quindi qua firugia è proprio indietro di sviluppo fa fatica anche ad arroccare corto deve prima muovere l'alfiere e poi arroccare questo richiede due tempi quindi vidit qua apre il centro della scacchiera molto importante aprirlo per andare a sfruttare il rene 8 che potrebbe risultare esposto quindi pedone in 5 qui firugia gioca con cavallo d7 su d per 5 seguirebbe alfiere 3 questa donna inizia ad avere poche caselle dobbiamo scappare magari in h4 a questo punto però l'alfiere continua ad infastidire la donna e dopo donna f2 il bianco ha guadagnato una mossa perché prima l'alfiere in questa esatta posizione era in f4 da cui era sotto attacco mentre ora è in g5 quindi il bianco con questa manovra di alfiere l'ha salvato però può entrare in gioco la torre che attacca la regina che deve tornare indietro e dopo alfiere per f6 eliminiamo il difensore della casella in d7 e dopo g per f6 arriva il matto di donna quindi il nero non può catturare il pedone in e5 firugia in partita gioca cavallo d7 ma ora dopo e per d6 il bianco riesce a recuperare il pedone che ha perso prima in f2 con gli interessi perché ora l'alfiere in f8 sarà un alfiere che farà un sacco fatica a svilupparsi di conseguenza il re del nero sarà ancora incastrato al centro della scacchiera la donna deve anche tornare indietro perché altrimenti ci sono idee simili a prima con alfiere 3 per andare ad intrappolare la regina del nero quindi la donna torna indietro viene attaccata deve scappare in d8 e adesso torre f1 il bianco ha portato in gioco tutti i suoi pezzi mentre il nero fa fatica a svilupparsi gioca cavallo e5 per cercare di entrare in c4 col cavallo e magari dopo il nero riuscirà a semplificare la posizione scambiando il cavallo su uno dei due alfieri l'alfierine 3 oppure l'alfierine 2 nel caso in cui il bianco sia il primo a catturare ora però vi decentralizza la donna gioca donna d4 questa donna dà un occhio sul lato di re sul lato di donna difende il punto in c4 controlla meglio la casella in c4 proprio la casella in cui vuole saltare il cavallo del nero torre c8 il nero cerca di sviluppare i pezzi che può sviluppare quindi la torre la porta sulla colonna c ora però la donna si può infiltrare in a7 attacca l'alfiere che si sposta cade il pedone in a6 e con il pedone in a6 rischia seriamente di cadere anche il pedone in b5 torre 8 la regina viene attaccata è quasi in trappola ma arriva alfiere a7 per fare da scudo pedone g6 il nero ora cerca di sviluppare il suo lato di re portando fuori l'alfiere magari con scacco per poi arroccare corto perché altrimenti non riesce proprio a mobilitare tutti i suoi pezzi alfiere per b5 crolla un altro pedone dopo scacco re b1 alfiere per b5 cavallo per b5 il cavallo si sta per infiltrare con cavallo c7 che sarebbe un attacco doppio tra re e torre quindi il re del nero deve arroccare cavallo c7 la torre sotto attacco e ora se scappa in c8 la donna torna in e2 difende il punto in g4 che è attaccato da questo cavallo attacca il cavallo in e5 e il bianco semplicemente rimarrebbe con due pedoni di più senza nessun compenso da parte del nero quindi qua firugia si butta va a catturare il pedone in g4 sacrifica la qualità adesso magari punta ad attaccare l'alfiere in a7 a volte potrebbe arrivare l'alfiere in e3 sfruttando questa inchiodatura per far cadere l'alfiere in a7 ma qua vedi torna indietro con la regina contraattacca il cavallo in g4 anche se perde l'alfiere cade il cavallo l'alfiere si riposizione su questa diagonale anche perché da h6 non stava più facendo assolutamente nulla e dopo donna c4 il bianco vuole infiltrarsi in c7 arriva donna b7 questa donna vuole scappare dopo donna c7 infatti il nero vuole portare la propria donna in b5 per difendere il cavallo e mantenere le donne sulla scacchiera per sperare ancora in un attacco sul re del bianco una volta che le regine vengono cambiate infatti il bianco otterrebbe un finale con qualità di più e ben non uno non due non tre ma quattro pedoni passati pronti ad andare a promozione torre f4 mossa molto utile per controllare la quarta traversa e questa torre infatti certe volte può attivarsi da b4 casella utile sia per difendere il punto in b2 in certe posizioni ma anche per attivare la torre in settima traversa arriva donna e 2 la torre sott'attacco si sposta in d2 difesa dal cavallo contraattaccando la regina donna e 5 attacco doppio il nero vuole mangiare la torre in f4 ma vuole anche dare matto in b2 quindi il bianco per difendere entrambe le minacce interpone su quella diagonale la torre in d4 cavallo f6 adesso donna c5 il bianco vuole ancora una volta cambiare le regine e neutralizzare tutto il gioco del nero cavallo d5 arriva re a 2 una mossa molto utile per togliersi da qualsiasi scacco futuro sulla prima traversa quindi per prevenire tutte le minacce del nero donna f6 la donna si sposta per schiodare questo cavallo che al momento non poteva muoversi perché il bianco sarebbe proprio riuscito a cambiare le regine pedone c3 il bianco va a consolidare la torre in d4 e va a tappare completamente questa diagonale sul punto in b2 l'alfiere va in h7 attacca la torre ma adesso vidit è bravissimo a neutralizzare il controgioco del nero gioca torre per d5 sacrificando la qualità ora su alfiere per d2 la torre ricattura il bianco avrebbe semplicemente un cavallo in più e questi pedoni starebbero andando proprio a regina e su e per d5 torre per d5 è vero ho ridato la qualità che avevo di più ma ora ho due pedoni passati questo alfiere non ha nessun target i pedoni del nero sono praticamente finiti e questo pedone non sarà più fermabile alfiere f4 il pedone viene spinto e dopo cavallo d4 firuja abbandona perché sta arrivando cavallo c6 che andrebbe a togliere la torre indiotto dalla casella di promozione a quel punto il pedone potrebbe andare a regina quindi ottima partita da parte di vidit anche se firuja un po sottotone sta facendo fatica di ingranare in questo torneo adesso andiamo ad analizzare la partita tra pragnananda e abasov abasov che sta facendo fatica con il nero diciamo con il bianco è riuscito a tenere ad equilibrare molto facilmente anche contro i giocatori più forti però con il nero le sta veramente perdendo tutte vediamo se contro pragnananda riuscirà ad invertire questa rotta abbiamo un gambetto di donne dopo cavallo c3 abasov non ci pensa due volte e va per c5 la tarrash questa linea che sta andando di moda tra i gm per cercare di ammazzare il gioco con il nero appiattire totalmente la posizione dopo c per d5 catturare con il cavallo c'è un sacco di teorie il nero ha varie varianti dove riesce ad ottenere la parità totale qui pragnananda vuole tenere la tensione quindi gioca con pedone 3 cavallo c6 la posizione è totalmente simile abbiamo visto abasov giocare simmetrico in praticamente tutte le partite in questo torneo pedone a3 pragnananda aspetta che sia il nero a scegliere se catturare in d4 oppure eventualmente in c4 abasov mantiene la simmetria con pedone a6 e ora pedone b3 da parte di pragnananda pragnananda vuole giocare una posizione tranquilla dove c'è ancora tensione diciamo non riusciamo a scambiare tutti i pezzi molto velocemente e quindi vuole mantenere vivo il gioco per cercare di vincere con il bianco c per d4 e per d4 e ora alfiere 7 abasov si sviluppa in queste posizioni spesso quando il nero va a catturare in c4 il bianco otterrà due pedoni sospesi o comunque dopo alfiere per c4 un pedone isolato e le posizioni saranno parecchio sbilanciate qui pragnananda gioca con pedone c5 prende spazio sul lato di donna e in futuro il piano potrà essere quello di avanzare proprio sul lato sinistro della scacchiera pedone b6 abasov va immediatamente ad attaccare la catena pedonale di pragnananda e ora dopo c per b6 donna per b6 quantomeno pragnan è riuscito a sbilanciare un po' la posizione con una struttura pedonale asimmetrica qua avrà più chance di vincere sicuramente rispetto a una posizione totalmente simmetrica pedone b4 ora prende spazio sul lato di donna in futuro potrà tornare utile avere due pedoni sul lato di donna contro uno in eventuali finali riuscirà a crearsi questo pedone passato e tutto sommato la casale in c5 ora è ben supportata dai pedoni del bianco e un eventuale manovra potrà essere quella di portare il cavallo in c5 cavallo e4 l'idea di abasov è che sulla cattura d per e4 il cavallo sarebbe sotto attacco e a quel punto il pedone in d4 rischierebbe di cadere quindi il cavallo di pragnananda si sposta in a4 attacca la regina che torna in b8 e ora alfiere 2 pragnananda sviluppa il suo alfiere per poi arroccare corti infatti qua entrambi i giocatori portano il real sicuro e dopo alfiere f6 pragnananda sviluppa l'alfiere in e3 per supportare il pedone in d4 il cavallo ora va in e7 verrà rimanovrato in f5 da cui potrà attaccare questo alfiere e pragnananda porta il cavallo in c5 questo cambio non è tanto buono per il nero perché dopo cavallo per c5 e b per c5 il bianco avrà un pedone passato sostenuto sulla colonna c tra l'altro in quinta traversa quindi già piuttosto pericoloso potrà giocare sulla colonna b attaccando la regina e la posizione del nero non sarebbe granché e qua abasov si trova un po in difficoltà perché questa struttura pedonale sta anche andando a fissare il pedone in a6 e questo pedone è un target d'attacco già questo alfiere in e2 è molto forte nell'attaccarlo magari il pedone non può essere catturato immediatamente però è comunque una debolezza a lungo termine questo alfiere in c8 fa fatica a trovare vita quindi quello che pensa abasov qua è di alleggerire un po la posizione gioca cavallo c3 per andare a catturare la coppia degli alfieri del bianco e dopo donna per e2 però in realtà quello che ha ottenuto è che questo cavallo in c5 del bianco sarà molto più forte dell'alfiero in c8 quindi qua la coppia degli alfieri del nero non sarà poi così efficace anche perché la posizione è chiusa e oltretutto il nero ha l'alfiere delle case chiare rispetto al bianco ma questo cavallo in c5 è un fortissimo cavallo sulle caselle scure quindi questo alfiere è totalmente inutile contro questo cavallo la posizione prosegue così abasov gioca con cavallo f5 attiva il suo cavallo dopo torre b1 mossa utile di pragnananda per togliersi da questa diagonale e supportare eventualmente un avanzata sul lato di donna per creare un pedone passato abasov apre il centro concettualmente è giusto perché per attivare la coppia degli alfieri il nero deve aprire la posizione a tutti i costi e dopo d per e5 alfiere per e5 pragnananda potrebbe andare a catturare questo alfiere però decide di andare a giocare con torre d1 per fare immediatamente pressione sul punto in d5 abasov però gioca attivo gioca con pedone d4 l'idea che quando questo cavallo andrà a catturare cadrà l'alfiere in h2 grazie a questa batteria di regina e alfiere quindi pragnananda sposta semplicemente l'alfiere l'alfiere torna indietro adesso abasov non ci sta a dare la coppia degli alfieri al bianco g4 questa mossa molto efficace per attaccare questo cavallo che è il difensore del punto in d4 qui abasov gioca con pedone h6 cosa di amine sta succedendo allora la questione è che il nero deve giocare con pedone h6 perché dopo pedone g4 del bianco questo cavallo non ha praticamente nessuna casalla in e7 è attaccato da alfiere e regina h4 è controllata g3 pure 3 stessa cosa deve andare in h6 ma quando questo cavallo va in h6 il bianco può ad esempio giocare con pedone h3 per limitare questi pezzi ma anche una mossa come alfiere per h6 è ottima per andare a distruggere totalmente l'arrocco del nero quindi qua abasov deve per forza giocare con pedone h6 non può perdere tempo e pragnananda trova donne 4 una mossa molto utile sia per supportare la cattura di questo cavallo a quel punto l'alfieri infatti non potrebbe andare a catturarci il pedone sia per dare un occhio a questa torre in a8 la donna del nero infatti farà fatica a spostarsi da b8 perché molto spesso questa torre poi andrebbe a rimanere sotto attacco in partita abbiamo h per g5 g per f5 abasov porta la torre in a7 per toglierla dall'azione su questa diagonale della regina torre per d4 crolla il pedone in d4 ma abasov contraattacca con questo sacrificio di pedone l'idea è che se la donna va a catturare non difende più la torre in b1 di conseguenza il nero può catturare il cavallo e dopo b per c5 il nero può catturare la torre in b1 quindi il bianco non può catturare questo pedone pragnananda avanza col cavallo in g5 alfiere per h2 scacco adesso visto che il cavallo si è spostato questa era l'idea di abasov il re sale in g2 la donna va in e5 adesso il nero vuole cambiare le donne perché questa colonna h aperta potrebbe ritorcersi contro al nero quindi cambiare le donne è molto importante pragnananda però lo fa ai suoi termini torre d5 vuole che sia il nero a catturare in modo tale che dopo il cambio la torre sta difendendo il punto in f5 l'alfiere del nero non potrà eliminare questo pedone l'alfiere ora deve tornare indietro era infatti rimasto sotto attacco dopo alfiere b8 pedone f6 pragnananda va a schiacciare il nero portando un pedone in seste su g per f6 seguirebbe cavallo per f6 scacco ora deve salire in g7 l'altro cavallo si unirebbe all'attacco difendendo il cavallo in f6 ora che la colonna g è aperta sta arrivando la torre in gc ma anche la torre in h1 ci sarebbero già idee di matto quindi il nero deve tenere la colonna g chiusa gioca alfiere f4 per cercare di attivare la sua coppia degli alfieri però pragnananda raddoppia sulla colonna di torre c7 l'idea sarà portare questa torre in sesta per andare a fare pressione su questo pedone che è molto fastidioso la torre però ora sale in quarta minaccerà varie scoperte attaccando l'alfiere in f4 abasov gioca con torre c6 va ad attaccare il punto in f6 ma ora cavallo di 6 tappiamo questo attacco della torre stiamo attaccando l'alfiere in f4 quindi abasov deve difendere l'alfiere lo fa con pedone g5 ora però il bianco può eliminare la coppia degli alfieri del nero può infiltrarsi in ottava traversa cambia una torre il re deve scappare in h7 il pedone in f6 e ancora una spina nel fianco la torre si attiva in a8 sta per crollare il pedone in a6 e a quel punto il bianco avrà due pedoni passati un eventuale finale sarà vinto qui il nero gioca con torre per f6 l'errore decisivo poteva ancora cercare di lottare portando la torre in seconda traversa per trovare contro gioco con pedone g3 ma qua abasov cattura in f6 e ora dopo torre per a6 il problema è che il nero non riesce più a fare in tempo a creare contro gioco questi pedoni stanno andando a promozione praticamente da soli torre f5 cavallo d7 mossa molto forte per togliere la casellina f6 definitivamente alla torre del nero e quindi sta arrivando torre a5 che forzerebbe il cambio delle torri e dopo re g7 torre a5 le torri vanno cambiate e abasov perderà la partita pedone a4 non c'è fretta tanto il cambio delle torri non scappa da nessuna parte pedone g3 e ora torre per f5 pragnananda ignorerà totalmente questi pedoni di abasov sul lato di re e andrà per il lato di donna con pedone a5 g per f2 il pedone sta andando a regina in realtà no perché resta controllando la casella di promozione quindi continuiamo ad avanzare qua abasov abbandona perché su alfiere e3 per controllare l'avanzata del pedone il cavallo si mette in mezzo e il pedone non potrà più essere fermato ora andiamo ad analizzare uno dei big match più importanti in questo torneo lo scontro tra nepo e caruana due dei possibili favoriti anche se abbiamo visto che i ragazzi indiani sono pericolosissimi abbiamo pedone 4 caruana non gioca la siciliana non vuole rischiare troppo cerca di giocare pedone 5 magari equilibrare il gioco vedere un po come va la partita ma senza prendersi troppi rischi e qua nepo gioca una 4 cavalli probabilmente vuole evitare la preparazione di caruana sulla spagnolo sul gioco piano che sono proprio le aperture che caruana potrebbe aspettarsi da nepo e ora cavallo f6 quindi siamo entrati proprio nella 4 cavalli nepo gioca con pedone d4 sta rientrando nella scozzese dopo il cambio alfiere b4 questa è la variante principale della scozzese dopo alfiere b4 il cavallo è inchiodato quindi il cavallo del nero vuole catturare in e4 il bianco vorrebbe tanto giocare con alfiere d3 per difendere il pedone ma rimarrebbe il cavallo in presa quindi quello che fa il bianco è prima scambiare il cavallo e solamente dopo giocare alfiere d3 il bianco non deve preoccuparsi di questo scambio perché è vero a quel punto i pedoni risulterebbero doppiati ma il bianco avrebbe la coppia degli alfiere in una posizione aperta e questo alfiere potrebbe attivarsi su questa fortissima diagonale pedone d5 dopo e per d5 qua il nero può ricatturare in d5 senza problemi ma può anche giocare prima a rocco corto sfruttando il fatto che il bianco non può catturare in c6 perché il rene 1 rimarrebbe ancora al centro della scacchiere starebbe proprio arrivando torre 8 con scacco l'alfiere arriva in g4 attacca la regina e il nero avrebbe un'iniziativa travolgente quindi il bianco deve arroccare corto e qua la mossa più giocata è c per d5 riprendendo il pedone però caruana gioca alfiere g4 attacca la regina nepo gioca f3 contraattacca l'alfiere che deve spostarsi ora potrebbe essere già possibile catturare in c6 su cui seguirebbe donna d4 scacco il re deve scappare in h1 e il nero va a recuperare i pedoni così il pedone in c6 infatti è sotto attacco stessa cosa per la torina 1 e si otterrebbe una posizione dove il bianco magari ha un leggero vantaggio perché ha la coppia degli alfieri però nepo non opta per questa linea con d per c6 va invece per alfiere g5 in chioda al cavallo e dopo c per d5 il pedone lo vuole guadagnare così va a dare l'alfiere sul cavallo che è il difensore del punti d5 ora g per f6 indebolirebbe troppo l'arrocco del nero quindi nepo va a catturare in f6 ora crolla d5 ma crolla anche b2 torre b1 la torre attacca la regina e quando la regina si muove questo alfiere rimarrebbe in presa quindi qua caruana deve salvare l'alfiere con scacco il re va in h1 e ora salva la regina attacca questo cavallo che però in realtà non è veramente in presa perché su donna per d5 seguirebbe alfiere per h7 scacco e la regina del bianco potrebbe andare a ricatturare la regina del nero quindi torre 1 il bianco sfrutta il fatto che il nero non può mangiare il cavallo per guadagnare un tempo sulla regina che torna in d6 ora cavallo e 7 scacco ora deve scappare in h8 donne 2 andiamo ad ottenere il controllo della colonna e il nero non può giocare con torre 8 perché a quel punto seguirebbe cavallo g6 scacco sacrifico il cavallo e dopo h per g6 do la regina in cambio delle due torri spesso le due torri sono più forti della regina però in generale una regina e un pezzo sono più forti delle due torri quindi qua il problema del nero non è tanto il materiale ma il fatto che la torre del bianco entra in ottava e sta arrivando torre h8 matto questo pedone non può essere spinto perché è inchiodato privi dell'alfiere in d3 e se il re prova a scappare da h6 arriva pedone h4 mossa molto forte per togliere la via di fuga in g5 del re nero e la minaccia di torre h8 si ripropone quindi qua caruana andrebbe ad ottenere una posizione persa non può opporsi sulla colonna e gioca quindi alfiere g6 il nero cerca di contestare la diagonale all'alfiere in d3 senza alfiere g6 infatti sarebbe arrivata donna e4 con idee di matto in h7 a quel punto l'alfiere sarebbe comunque dovuto tornare in g6 dopo cavallo per g6 nepo elimina la coppia degli alfieri di caruana e poi gioca con donna e5 questo è un finale piuttosto equilibrato dove ci sono gli alfieri contrari ci sono anche i pezzi pesanti ma la struttura pedonale è praticamente simmetrica il nero a questa doppiatura che però in realtà non gli porta un vero indebolimento perché comunque solido il re li sta difendendo molto bene anche se questo re potrebbe sembrare esposto sulla colonna h su qualsiasi scacco il re scappa in g8 e a quel punto il bianco non avrebbe nulla quindi l'idea di nepo è entrare in un finale di questo tipo dove quantomeno dopo il cambio delle regine le sue torri sono più attive rispetto alle torri del nero caruana quindi aspetta che sia il bianco a catturare in d6 in modo tale da poter ricatturare con l'alfiere oppure con il pedone insomma evitare che le torri del bianco si attivino così tanto va a contestare la colonna b alla torre in b1 del bianco anche dopo il cambio delle donne pedone g3 nepo vuole posizionare i suoi pedoni sulle casalle di colore scuro per andare a limitare l'alfiere campo scuro del nero caruana quindi gioca pedone g5 per evitare che il bianco possa espandersi ulteriormente con pedone f4 a quel punto l'alfiere in d6 sarebbe ulteriormente chiuso c'è un cambio di torri poi la torre saline 4 la torre del bianco è leggermente più attiva della torre del nero l'idea è che dalla quarta traversa la torre può attaccare il pedone in g5 ma eventualmente anche il pedone in a7 su ad esempio torre b2 una mossa che sembra molto promettente per attivare la torre sulla seconda traversa il bianco può difendere il pedone attaccando allo stesso tempo il puntina 7 caruana ora prende spazio con pedone a5 il bianco attacca il pedone in g5 ma per il nero è molto facile andare a difendere questi pedoni con l'alfiere campo scuro tutti i pedoni deboli del nero infatti sono posizionati su delle caselle di colore scuro e l'alfiere del bianco non riuscirà a fare nulla per attaccarli adesso la torre prova ad attivarsi da d7 ma torre d8 caruana propone il cambio delle torri se queste torri dovessero sparire dalla scacchiera questo finale di alfieri di colore contrario sarebbe molto facile da pareggiare con il nero attivando magari il re verso il centro della scacchiera quindi nepo tiene le torri giocatore 4 attacca l'alfiere che però si sposta in d6 adesso attacchiamo a5 ma arriva torre 8 che difende il pedone attacchiamo g5 l'alfiere torna indietro in e7 difende il pedone e fa fatica qua nepo a sfondare i giocatori ripetono un po' poi nepo cerca di spingere con alfiere e4 torre a7 adesso la torre prova ad entrare in settima nuovamente ma dopo pedone c5 la torre del nero sta controllando tutta la settima traversa la torre torna indietro adesso caruana avanza piano piano con i suoi pedoni e qui abbiamo un cambio delle torri è vero nepo perde il pedone a3 ma va a rifarsi sul pedone in a4 e due giocatori si accordano per un pareggio analizziamo adesso la quarta partita anche questa molto attesa tra gucash primo in classifica pari punti con nepo e nakamura che tutti noi conosciamo ieri è venuto da una vittoria con il nero contro filuja quindi anche stavolta gioca una difesa siciliana per sbilanciare il gioco e ottenere partite interessanti cavallo f3 pedone g6 non una siciliana qualsiasi ma il dragone iperaccelerato giocato molto poco qua il bianco potrebbe con pedone d4 rientrare in una struttura maroczi dopo alfiere g7 c4 infatti il concetto qua è che il nero non avendo giocato cavallo f6 ha dato la possibilità al bianco di ritardare cavallo c3 e di conseguenza il pedone c è libero di essere spinto il bianco avrà un ottimo controllo sulle caselle centrali giocherà con cavallo c3 alfiere 2 alfiere 3 arroco corto f3 b3 e ci sono i vari piani della struttura maroczi che potrò proprio trattare in un video a parte in futuro per mostrarvi anche i piani del nero qua gucash però non gioca con pedone d4 gioca con pedone c3 l'idea è supportare la spinta in d4 per ricatturare con un pedone ottenere due pedoni centrali molto forti nakamura però sfrutta il fatto che il cavallo non può più andare in c3 per contraattaccare al centro con pedone d5 ora dopo il cambio è vero la regina esce fuori ma il bianco non riesce ad attaccarla con il cavallo e quindi si andrebbe a rientrare in certe posizioni di alapin qua gucash però spinge gioca a pedone e5 e nakamura porta l'alfiere in g4 la sua idea sarà giocare una sorta di struttura francese dove l'alfiere è uscito fuori magari catturerà il cavallo in f3 poi con alfiere g7 ed eventualmente f6 farà pressione sul pedone in e5 questa è l'idea di nakamura gucash ora gioca con alfiere b5 scacco capiamo un attimo la posizione allora intanto il nero probabilmente darà l'alfiere sul cavallo quindi a quel punto il bianco avrà la coppia degli alfieri in questa posizione però l'alfiere in d3 andrà a sbattere sempre contro questa catena pedonale sulle case chiare del nero quindi quello che ha pensato gucash è stato ok io gioco alfiere b5 scacco scambio l'alfiere sul cavallo infatti in partita è andata alfiere b5 cavallo c6 poi alfiere per c6 vado a doppiare questi pedoni del nero elimino un eventuale pezzo che potrà attaccare il mio centro pedonale questo cavallo è il principale attaccante del centro del bianco questo alfiere comunque me lo ricatturerò quindi di conseguenza non perdo la coppia degli alfieri solo io e poi mi vado a costruire un forte centro sulle case scure gucash a rocca corte nakamura per evitare che il bianco possa andare a costruire una struttura pedonale del genere gioca con pedone c4 l'idea è che ora dopo pedone d4 ci sarà la cattura in passante e a quel punto il nero avrà scambiato il pedone c doppiato per il pedone centrale in d2 quindi questo andrebbe a favorire nakamura cioè ok la posizione sarà ancora equilibrata però è l'idea strategica giusta che deve applicare il nero in questa posizione gucash gioca con pedone d3 per fare pressione sulla catena pedonale però qua non cambia niente dopo il cambio nakamura non ha più i due pedoni doppiati sulla colonna c qua va a dare l'alfiere sul cavallo che è il difensore del pedone in e5 poi lo va ad attaccare con alfiere g7 la donna torna in e2 difende il pedone nakamura insiste con donna c7 continua ad attaccarlo quindi gucash deve giocare torre 1 per difenderlo e ora pedone e6 stiamo giocando una sorta di struttura francese dove il nero è riuscito a cambiare due pezzi ha la colonna b aperta e il nero non ha nemmeno più l'alfiere delle case chiare che solitamente è il pezzo che nella struttura francese rimane bloccato all'interno della struttura pedonale quindi nakamura sta facendo un buon lavoro ora vuole spingere in c5 se riesce a spingere in c5 a quel punto il nero può anche stare meglio il cavallo magari sarà diretto in c6 per attaccare e5 oppure sarà diretto in f5 il nero arroccarà corto giocherà con pedone f6 eliminerà questi due pedoni aprirà la colonna f ci sono tante idee quindi gucash qua deve essere molto attento gioca infatti con pedone b4 va a limitare l'avanzata in c5 del pedone nero adesso cavallo e7 nakamura sviluppa il suo cavallo e arriva cavallo d2 l'idea è sfruttare questa casella in c5 indebolita nello schieramento del nero il nero infatti non ha nessun pedone che può contestarci questa casella quindi il piano del bianco è portare un cavallo in c5 se dovesse riuscirci a quel punto il bianco otterrebbe un'ottima posizione quindi nakamura qua si inventa cavallo c8 una mossa strana il cavallo torna indietro per quale motivo allora l'idea è che adesso per reagire a questo piano dove il bianco porta il cavallo in c5 nakamura cosa fa va a sfruttare a sua volta la casella in c4 che è debore nello schieramento del bianco ora non ci sono infatti pedoni che possono contestare questa casella al cavallo di nakamura e quindi questo cavallo che sta difendendo questa casella se si sposta e raggiunge c5 lascia scoperta la casella in c4 questa è l'idea di cavallo c8 gucash quindi cambia piano gioca con pedone c4 va a liberarsi della debolezza in c4 dopo il cambio il suo cavallo sarà pronto a saltare eventualmente in d6 a quel punto sarà una casella debole quindi nakamura tiene l'attenzione gioca al rocco corto vuole che sia gucash a catturare in d5 gucash sviluppa l'alfiere in b2 che supporta anche il pedonino e5 e ora pedone a5 nakamura va ad attaccare la catena pedonale del bianco gucash la difende con a3 c'è un cambio della torre quindi adesso la colonna a è di gucash anche se in realtà per poco perché dopo d per c4 cavallo per c4 il cavallo va in b6 il nero è già pronto a contestare la colonna a adesso dobbiamo un attimo capire cosa sta succedendo in questa posizione dopo il cambio dei cavalli infatti questo finale sembrerebbe a primo impatto favorevole per il bianco perché abbiamo più spazio il pedone in e5 il pedone in b4 è più avanzato il pedone in c6 è debole posto su colonna aperta sto controllando la colonna a però allo stesso tempo è vero il bianco è più espanso ha più spazio ma con così pochi pezzi il fatto di avere più spazio non per forza è un fattore che ci favorisce in particolare il problema del bianco in questa posizione è che questi due pedoni sono sulle caselle di colore scure quindi sono pedoni che l'alfiere del nero può attaccare facilmente no mentre questo pedone in c6 seppur debole e isolato ma come del resto il pedone in b4 è su una casella chiara quindi questo alfiere non può coordinarsi per andare ad attaccare questo pedone di conseguenza il nero sarà il giocatore che riuscirà a creare più pressione magari sul punto in b4 poi detto ciò la posizione è lo stesso molto equilibrata perché tutto sommato se il nero dovesse utilizzare tutti e tre i suoi pezzi per fare pressione su questo pedone in b4 io dovessi utilizzare tutti e tre i miei pezzi per difendermi io attacco con tre tu difendi con tre alla fine dei conti non puoi sfondare quindi pareggeremo lo stesso però ecco se dovessi scegliere tra il bianco e il nero sceglierei il nero perché è il giocatore che può creare più pressione nella posizione adesso alfiere c3 gucash difende il pedone in b4 donna b5 nakamura cerca il cambio delle regine perché dopo c per b5 il pedone in b4 sarebbe fissato su questa casella quindi potrebbe essere un target d'attacco detto ciò la posizione sarebbe comunque equilibrata gucash però tiene le donne gioca donne 4 vuole magari anche attaccare il punto in c6 oltre a difendere entrambe le debolezze e magari vuole tenere le regine per aspirare a un qualche attacco sul lato di re avanzando il pedone h anche se lo vedo molto difficile come piano perché alla fine dei conti ci sono troppi pochi pezzi e il bianco deve anche dare un occhio alle sue debolezze comunque nakamura gioca con torre d8 il piano di nakamura in questa posizione è posizionare una torre in d5 per attaccare il punto in e5 magari prima giocherà h5 per evitare che ci siano eventuali matti del corridoio così il re avrà la casalina h7 dopo torre d5 attaccherà il punto in e5 se vuole fare pressione su b4 tornerà indietro con la regina per poi portare la torre in b5 attaccare il pedone e quindi queste sono le idee che ha i karuna la posizione ora pedone g3 anche gucash vuole evitare qualsiasi tipo di matto del corridoio posizione i suoi pedoni sulle caselle scure per limitare l'alfiere in g7 del nero l'alfiere va in f8 si riposiziona per attaccare il punto in b4 adesso abbiamo reggi 2 gucash migliora la posizione del suo re donna b7 come vi dicevo probabilmente questa mossa servirà a portare la torre in b5 abbiamo torre c1 il bianco vuole fare pressione sul pedone in c6 torre d5 il nero tappa questa diagonale con la torre come vi dicevo attacca questo pedone magari la torre diretta in b5 gucash prosegue con alfiere 1 lascia libera la colonna la torre h5 nakamura da case di fuga al suo re ed eventualmente il pedone può addirittura marciare in h4 con l'idea che su g per h4 la struttura pedonale del bianco è completamente distrutta e anche il suo re rischia di essere più insicuro e su donna per h4 cade il pedonino e5 quindi qua gucash torna sui suoi passi gioca alfiere c3 va a difendere il pedone in e5 così che su h4 la donna può catturare e a quel punto il bianco avrebbe ancora la struttura pedonale compatta e il nero avrebbe perso semplicemente un pedone nakamura quindi gioca alfiere 7 da un occhio ancora una volta la spinta in h4 vuole sacrificare il pedone per distruggere la catena pedonale del bianco e gucash impedisce la spinta in h4 definitivamente muovendo il suo pedone in h4 alfiere f8 l'alfiere torna indietro adesso gucash occupa la colonna a alfiere 7 adesso nakamura fa avanti indietro un po con l'alfiere per avvicinarsi sempre di più alla quarantesima per poi ottenere il bonus di tempo però entrambi i giocatori sanno che la posizione è molto equilibrata gucash magari gioca sulla colonna c però alla fine la questione è che quando cade il pedone in b4 dopo tutti i cambi cadrà anche il pedone in c6 e una volta che cade il pedone in c6 i pedoni sul lato di donna sono completamente spariti rimarranno quei 4 sul lato di re ma a quel punto la posizione sarà troppo simmetrica i giocatori si accorderanno per un pareggio giocano ancora un po manovrano con le torri però alla fine c'è il cambio di questi pedoni cambiano anche gli alfieri e i giocatori insomma si mettono d'accordo per pareggiare questa è la classifica aggiornata al turno 6 io vi ricordo di lasciare un like per supportare questo mio lavoro tanto a voi alla fine non costa assolutamente nulla ma a me potrebbe fare la differenza e piccola cosa il video di domani potrebbe uscire dopo domani perché domani sarà un torneo importante poi vi racconterò tutto meglio quindi noi ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per l'enorme supporto Grazie a tutti